Ciao a tutti! Allora faccio questo video perché in realtà avevo in sospeso il fatto che ci fosse il massaggio kundalini di Di Alkaur, allieva di Yogi Bajan e chiaramente ho voluto comprendere attraverso una telefonata che ho fatto l'altro giorno ed è stata molto molto interessante perché in realtà ho parlato con uno dei cinque allievi che è stato l'unico almeno attualmente in Italia a proseguire fino ad avere il master per poter poi insegnare questo massaggio kundalini che in realtà non si dovrebbe chiamare massaggio kundalini ma kundalini massage fondamentalmente perché ha questa derivazione americana e soprattutto si distingue dal mio massaggio kundalini perché sono delle posizioni yoga per lo più e si fa da vestiti e chiaramente siamo su due tipologie di massaggi differenti. È stato interessante concordare sul fatto che non è mia intenzione procedere in modo legale anche perché stiamo parlando di un campo dove tra operatori olistici nel momento in cui si comprende che una persona come me ha brevettato un marchio, in questo caso il massaggio kundalini, chiunque parli di massaggio kundalini bisogna che faccia riferimento al massaggio kundalini di Anna Senatore e soprattutto perché c'è una sorta di principio che dovrebbe riconoscere il fatto, come dicevo prima, che essendo operatori olistici dovremmo lavorare in conformità ad un decalogo deontologico che prevede il fatto che non ci sia concorrenza, concorrenza sleare fra l'altro utilizzando la stessa parola che creerebbe, come dicevo anche nel primo video, la confusione fra chi come me ha registrato un marchio dicendo che il massaggio kundalini viene fatto in un certo modo rispetto a chi invece poi organizza dei corsi e quindi dal 2017 in poi che è la data in cui ho registrato questo marchio non è preferibile chiaramente utilizzare ancora la dicitura massaggio kundalini. Detto questo io ho avuto modo, come dicevo, di avere tante informazioni su quello che è stato il suo percorso con questa insegnante che ormai dovrebbe avere più di 80 anni e si è ritirata proprio nel 2013. In pratica lei ha fatto quest'ultimo corso e ho avuto modo proprio di parlare con uno degli allievi e chiunque... questa è stata un'informazione importante perché in effetti chiunque dica di essere allievo di D. Alcaur in effetti da quello che mi diceva lui erano in cinque e due sono andati negli Stati Uniti e un'altra ragazza non c'è più e poi l'altra ragazza invece l'aveva fatto solo per un suo percorso personale non professionale. Avendo raccolto anche questa informazione a maggior ragione è giusto che i centri olistici che promuovono il massaggio kundalini di Yogi Bhajan in realtà non so a questo punto quanto possano intanto dire il vero e anche perché poi questo ragazzo mi diceva che ha preso un'altra strada e non non ha più avuto come dire fra il suo percorso evolutivo l'aspetto del massaggio kundalini come fra le sue attività preferenziali. Detto questo io sono qui per aggiornarvi come ho anticipato non ho nient'altro da dire vi mando un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao!